Musica Dovrebbero essere 300 in questa prima fase i migranti da accogliere nell'agro Nocerino 100 per ogni ambito del piano di zona, 25 per ogni comune. A seguire con attenzione questa vicenda è il sindaco di Noceria Inferiore Maglio Torquato. Un numero esiguo di migranti può essere accolto, discorso diverso e addetto, sarebbe poter spalancare le porte ad un numero superiore di persone, sarebbe irragionevole addetto. Abbiamo sicuramente da dover fare fronte, secondo le richieste che la prefettura ci ha fatto, che in questo momento appaiono essere totalmente ragionevoli. C'è una distribuzione per piani di zona o per ambiti di piani di zona e quindi all'interno dei piani per comune di tot numero di migranti che sbarcono o vengono portati al porto di Salerno. Il problema che si pone però anche qui è un problema di prospettiva, quindi le perplessità restano, le farò presenti a sua eccellenza. Noi abbiamo tre quarti della provincia che ha una scatola vuota demograficamente, che è tutta la parte a sud di Eboli, dove ci sono centri totalmente spopolati o poco popolati, dove c'è un territorio ampio, non ci sono problematiche sociali pesanti come abbiamo nella parte nord della provincia, non c'è una densità demografica così carica come nel nostro caso. Ecco, se questo rappresenta una prima frontiera di risposta o un'unica frontiera di risposta va bene, noi siamo disponibili. Se invece deve rappresentare un varco per cui poi in prospettiva arriveranno da noi centinaia e centinaia di persone, è irragionevole pensare che territori piccoli in termini di superficie, ma molto popolosi e per di più con criticità sociali evidenti, possono essere pienamente ricettivi e supinamente ricettivi a flussi migratori che non saremmo in grado di controllare se non a costo del rischio di tensioni sociali che si innescherebbero l'indomani. Quindi di questo noi vorremmo far presente, però per il momento siamo pronti a dare una risposta positiva.